La Libera e Libera Terra sono due realtà giuridicamente separate, ma in realtà vanno proprio di pari passo, perché è proprio grazie all'impegno profuso da Libera per l'approvazione della legge 109 del 96, una legge che prevede il riutilizzo sociale dei beni confiscati, che sono potute nascere le cooperative di Libera Terra. Queste cooperative sono un esempio concreto di cosa significa la restituzione di un luogo, di un territorio, di un ambiente che era in mano alla criminalità organizzata ad un'economia pulita che rispetta l'ambiente, che rispetta i diritti dei lavoratori e rispetta anche la qualità rispettando quindi anche i consumatori. Questi prodotti, i prodotti di Libera, hanno un valore aggiunto, perché sanno di giustizia, di verità, di memoria, di restituzione e di riscatto. Tra le qualità che io ho indicato, tra il valore aggiunto che ho indicato, c'è quello della memoria, perché molte di queste cooperative sono dedicate a delle vittime innocenti di mafia e quindi è proprio un ricordo del sacrificio di queste persone che quando qualcuno acquista un prodotto di Libera Terra compie un passo ulteriore verso la cittadinanza responsabile.